Salve a tutti amici di Youtube, qui è Mickey Perfect, non da sai che vi parla. Oggi ragazzi sono in questo nuovo video e come vedete anche con un titolo abbastanza esplicito perché ci troviamo davanti a uno dei mazzi più discussi dai player di Yu-Gi-Oh! ultimamente. Uno dei mazzi che secondo molti potrà essere o il T1 assoluto di tutti oppure il mazzo che verrà veramente spammato ovunque dove potrà essere diciamo sempre sulla bocca di tutti in quanto a forza e a risultati. Ragazzi ci troviamo davanti a un mazzo per il quale anche la meccanica Xyz viene rovinata e viene modificata per rendere veloce e forte questo mazzo ma comunque vedremo di che cosa si tratta. Partiamo dagli Xyz che sono veramente molteplici in questo archetipo sono veramente tanti come sono tanti anche i mostri e anche altre carte che vedremo dopo. Allora il primo Xyz che troviamo è il Borbov, è uno dei 6 o 7 Xyz che ha questo mazzo e ho voluto mettervi l'effetto così in modo da spiegarvi quale parte dell'effetto focalizzarsi di più. Innanzitutto questo lo leggiamo per intero nel senso che una volta per turno semplicemente questa carta può essere diciamo sovrapposta come fa Gaia Suatun ai tempi di Ieratic questa carta si può sovrapporre a un altro mostro zodiac basta che abbia il nome diverso cioè non puoi attaccare tre mostri uguali sempre Borbov, Borbov eccetera eccetera quindi tu devi continuamente portare devi continuamente sovrapporre un mostro che abbia il nome diverso inoltre ragazzi i mostri diciamo che ovviamente vai a sovrapporre diventano parte dei materiali Xyz della carta in sé e inoltre guadagna attacco e difesa pari al totale attacco e difesa di tutti i mostri zodiac che sono come mostri materiali Xyz bene questa parte di effetto ragazzi che vedete è uguale per tutti i mostri Xyz quindi non andremo a rileggerla tutte le volte ora andiamo a vedere l'effetto che contraddistingue il mostro in sé questa carta può attaccare il tuo avversario direttamente se questa carta con 12 o più materiali Xyz infligge danno da battaglia al tuo avversario puoi mandare più carte possibili dalla sua mano e dal suo terreno al cimitero quindi ragazzi pazzesco cioè mandare non targhetta cioè assurdo ragazzi assurdo e questo mazzo può farla questa combo anche se magari 12 effettivamente sono un po' tanti e può essere rischioso però ragazzi dopo questa carta se ne va bella in difesa andiamo subito al prossimo ragazzi come vedete vi ho evidenziato l'effetto in arancione per aiutarci diciamo a guardare quello che dobbiamo vedere perché il resto diciamo l'abbiamo già detto prima le condizioni di evocazione ragazzi sono irrisorie a voi non ve ne deve fregare nulla perché comunque grazie al fatto di poter sovrapporre due livelli livelli 4, 5 livelli 4 non ve ne deve fregare assolutamente niente una volta per turno questa carta puoi detacciare un mostro materiale un materiale Xyz da questa carta e a dare un guerriero bestia che può essere evocato normalmente o posizionato dal deck alla tua mano quindi questo va a serciare quindi ragazzi tutto che ho guadagnato andiamo a vedere il brancia questa carta durante qualsiasi turno anche dell'avversario puoi detacciare un materiale Xyz da questa carta è distruggere una carta scoperta sul terreno l'hammerkong mentre ha materiali Xyz sotto di esso diciamo che l'avversario non può targettare i mostri zodiac sul terreno con effetti di carte quindi questa carta davvero cioè completa una serie di cose io non ho parole perché è veramente tanta roba questo mazzo è veramente forte una volta per turno durante la end phase detacci uno mamma mia che costo Laika dice invece che una volta per turno puoi detacciare un materiale da questa carta per targettare uno zodiac nel tuo cimitero ed evocarlo specialmente però per il resto del turno ha l'effetto negato e inoltre non può essere usato come materiale Xyz o per un'evocazione Xyz La Tigress invece detacciando un materiale Xyz da questa carta ti permette di scegliere un Xyz che controlli uno zodiac nel tuo cimitero e attaccarli sotto di essa quindi ragazzi veramente e abbiamo pure la carta che ricicla dal cimitero c'è di tutto in questi Xyz ma non avete visto i mostri perché noi molti ragazzi troviamo diciamo degli elementi che vanno a far guadagnare l'effetto al mosto Xyz che si va a sovrapporre quindi questo ragazzi è diciamo l'effetto principale dei mostri con effetto dei zodiac poi ragazzi come vedete nelle prime righe vedete che se questa carta viene distrutta da battaglia, da effetto puoi targettare uno zodiac card nel tuo cimitero e mescolarla nel mazzo allora questa parte di effetto un po' come nell'ABC è simile un po' in tutti nel senso c'è quello che rimischia quello che evoca quello che te lo fa dare in mano quindi ragazzi non ci perderei troppo tempo però diciamo che girano intorno a tutta questa cosa qua che magari invece di essere distrutto da battaglia da effetto invece bisogna bocarlo in un momento specialmente però ragazzi si gira sempre lì intorno cioè che o te lo rimischia o te lo fa dare o te lo fa bocare speciale quello poi insomma ragazzi lo vedranno e se ne occuperanno chi vorrà giocare a questo mazzo comunque l'effetto lo vedete qui davanti mi vorrei focalizzare invece sulla parte arancione che è l'effetto che va a guadagnare il mostro Xyz che si va a sovrapporre e che ovviamente contraddistingue ciascun mostro per esempio il clacol dice che durante il turno di qualsiasi giocatore quando l'avversario attiva un effetto di un mostro che targetta questa carta possiamo detacciare un materiale e negare l'attivazione bello oh debuluccio il marmorat ragazzi come vedete invece se viene evocato normalmente possiamo mandare uno zodiac questo invece non ha effetti di riciclare però questo qui fa semplicemente da foolish e l'effetto è che una volta per turno possiamo detacciare un materiale da questa carta ed evocare specialmente un marmorat dalla mano o dal deck quindi ragazzi questo è l'effetto che invece marmorat consente di dare a un altro mostro quindi questo è il forte perché già gli xyz sono forti i mostri che invece vanno a crearsi evocando gli xyz sovrapponendoci di sopra invece sono ancora più forti ma il fatto qual è? che per l'appunto è facilissimo evocarli perché basta sovrapporre non servono mostri uguali eccetera eccetera basta anche averne uno per fare un xyz rabbina rabbina ragazzi ha un effetto come vedete simile a quello di prima alla parte bianca intendo mentre nella parte arancione vedete che non è un effetto pendulum ovviamente dice che durante qualsiasi turno quando l'avversario attiva una carta magia o un effetto che targetta questa carta quindi l'xyz che si va a sovrapporre a questo mostro possiamo detacciare un materiale xyz da questa carta e negare l'attivazione quindi ragazzi prima avevamo l'effetto e adesso abbiamo pure quella che ci nega le magie il ram invece è simile anche a quello di prima come vedete se questa carta viene distrutta da battaglia o effetto e durante qualsiasi turno del giocatore quando il tuo avversario attiva la trappola infatti mi sembrava strano che ancora non l'avessi trovata quando viene attivata una trappola o un effetto che targetta questa carta puoi detacciare un materiale da questa carta qui bellissimo anche lui molto debole poi abbiamo il Thor of Blade che invece fa fare danno perforante il Viper invece consente dopo una battaglia di bandire il mostro dopo il calcolo dei danni ora veniamo alle magie la prima ragazzi che questa magia continua dice che possiamo targettare una carta scoperta sul nostro terreno e distruggerla e se lo facciamo evochiamo specialmente uno Zodiac Monster dal nostro deck bellissimo possiamo usare questo effetto solo una volta per turno se questa carta viene distrutta dall'effetto di una carta mandata al cimitero possiamo targettare uno Zodiac Xyz che controlliamo e attaccare questa carta dal nostro cimitero e metterla come mostro materiale Xyz beh insomma veramente buona anche questa non c'è niente da dire ragazzi tutto il comparto di Zodiac è una carta che è migliore dell'altra non si smette mai di vedere roba più forte poi veniamo a Sain che dà 300 d'attacco di difesa ai nostri Zodiac e inoltre costringe il nostro avversario ad attaccare il mostro con attacco più alto sul nostro terreno perché non può targettare altri mostri guerriero bestia finché non attacca e distrugge il nostro mostro più forte una volta per turno se un mostro Zodiac che controlliamo sta per essere distrutto dall'effetto di una carta possiamo distruggere un altro mostro nella nostra mano nel nostro terreno per prevenire la distruzione poi veniamo all'ultima carta che è la Seasonal Direction che ci consente di targettare uno Zodiac Xyz Monster che controlliamo attaccare come materiale Xyz un mostro Zodiac quindi possiamo searchare tranquillamente il mostro che ci manca per rendere più ostico il nostro mostro possibile e durante il turno di qualsiasi giocatore eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero possiamo mandirla per scegliere 5 Zodiac card nel nostro cimitero con nome diverso mischiarle e pescare una carta quindi abbiamo anche la POA bene ragazzi questa ragazzi è una schermata nella quale volevo farvi vedere che cosa si può fare una possibile mossa l'ho trovata su internet e ve l'ho messo e ne approfitto anche per parlarvi un attimo di quello che ne penso di questo mazzo allora può essere molto confuso come mazzo difficile però ricordate che gli Xyz diciamo la regola degli Xyz è stata completamente demolita l'Xyz era arrivato con due mostri di livello uguale e sovrapporli entrambi per evocare un Xyz qui ragazzi la regola viene demolita per questo io dico che è veramente l'inizio della fine perché questo mazzo ragazzi credo che ce lo vedremo per molto tempo perché come vedete basta avere un mostro per procedere subito con un Xyz diciamo che il fatto di dover riempire il terreno prima di fare delle eventuali Xyz lasciava intendere che mostri o carte che potessero diciamo bloccare alcune zone carte mostro dell'avversario potessero essere una valida contromossa contro questo deck però ragazzi a quanto pare non è così come vi ripeto queste regole sono andate completamente nel dimenticatoio questo mazzo è stato fatto palesemente per surclassare quelli che sono già in circolo adesso io ragazzi non sono affatto d'accordo sull'uscita di mazzi così sbroccati perché vedrete ragazzi vedrete che se non saremo ai livelli di Pepe ci andremo molto vicino io davvero mi trovo mi trovo davvero a quasi a fare un video contro adesso anche agli Xyz perché anzi alla Konami perché se prima dovevo criticarla per i Pendulum per la meccanica Pendulum ora anche gli Xyz diventano sbagliati se questa è l'idea di Xyz che dobbiamo dare e che è quella diciamo più evoluta ragazzi dove basta solo un mostro per sovrapporre io ragazzi non mi trovo più d'accordo anche perché questa è una cosa che ha solamente questo mazzo che ha davvero tutto ragazzi ha davvero tutto questo mazzo io lo temo ed è per questo che penso che debba fare uscire una Banned la Konami dove limita quelle carte che potrebbero dare uno spicco ancora maggiore ora tirando le somme ragazzi Terror Troop quella robaccia là a me non interessa se la mandiscono o no perché oramai manca poco però voi ragazzi che ne pensate di questa roba davvero è lecita una roba così dove già di primo turno si parte di 20.000 special ragazzi bisognerebbe secondo me dare un piccolo fermo e spero che quando uscirà la prossima serie quindi cambieranno arriveranno nuove carte arriveranno nuove regole spero che la Konami in merito ci voglia fare un pensiero spolliciate questo video perché ci ho messo molto a farlo e spero che il video vi piaccia ragazzi io vi saluto lasciate un bel mi piace io vi ringrazio per tutto il supporto come me ne avete dimostrato in quello scorso e vi saluto un saluto da amiciperf96 da sei ciao a tutti ciao a tutti Grazie.